Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, c'è Andrea e oggi sono qui per andare a spiegare come mettere i vostri libri cartacei in digitale, quindi o su telefono, computer o tablet. Come sapete io a Natale ho ricevuto un tablet e lo utilizzerò maggiormente per la scuola. Infatti io lo porterò a scuola per prendere appunti e utilizzare i libri digitali. Ci sono molti vantaggi nei libri digitali. Uno di questi è che si può non sprecare carta e il secondo di questi è un risparmio di peso. Ad esempio questa qui è la mia cartella con tutti i libri cartacei e i quaderni e il diario più la merenda e la borraccia. E pesa tantissimo come potete vedere. Invece io avendo sia i quaderni che i libri digitali posso semplicemente portare soltanto il tablet. Io utilizzo questo tablet che è un Samsung Galaxy Tab A8 2021 assieme alla cover, il vetrino e la penna touchscreen della UOA che è universale per tutti i tablet. È magnetica e ve la straconsiglio se dovete prendere appunti. Tutti i link li trovate nei commenti. Il procedimento per aggiungere libri digitali cambia da libro a libro perché come vedete io ho quattro app. Oggi andremo a vedere il procedimento per aggiungere i libri di Pearson, Abbeyang, Zanichelli ed è a scuola. Iniziamo con i libri Pearson. Tutti i procedimenti sono uguali sia da iOS che da Android. Io ve lo andrò a mostrare da Android. Come prima cosa bisogna andare nel nostro browser, nel mio caso Google, e andiamo a cercare Pearson Place. Clicchiamo sul primo risultato. Scorriamo in basso e clicchiamo Registrati. Bisognerà andare a inserire l'indirizzo e-mail, un nome utente, una password, il nome cognome, paese e ruolo, quindi docente, studente, studente universitario, genitorio, dirigente scolastico. Accettiamo i termini e ci registriamo. E dopodiché accediamo. Qui in alto troveremo Attiva prodotto e noi dobbiamo andare a cliccarlo. Ora dovete prendere il vostro libro e grattare questo codice che si trova qui in alto. Tranquilli, io questo qui l'ho già utilizzato. E lo dobbiamo andare a inserire qua. Dopodiché dobbiamo andare su Prodotti. I nostri libri saranno sul sito. Per ora dobbiamo andare a installare l'app. L'app si chiama Reader Plus. Appena entrati ci chiederà di accedere sempre con lo stesso account di prima. Ci basterà scaricare i libri per utilizzarli completamente offline. Passiamo ad Hub. Come prima cosa dobbiamo andare sempre sul nostro browser e cercare Hub Scuola. Entriamo sul primo risultato. Andiamo qui su Non hai un account? Registrati. Clicchiamo Registrati. Selezioniamo il nostro ruolo. E ci registriamo con nome, cognome, email, password e data di nascita e anche la provincia. Poi qui ci saranno i dati di istituto, ovvero il tipo di scuola e la classe. Clicchiamo Continua. Dopodiché accediamo. Qui in alto ci sarà un tasto verde con scritto Attiva Libro. Clicchiamolo e inseriamo i dati. Possiamo sia andare a metterlo con il codice, che è quello più semplice, oppure con un bollino SIAE. E questo qui dipende tutto dal libro. Infatti alcuni io ce li ho con i bollini e altri con il codice. Ad esempio in questo libro c'è il pin di attivazione, quindi bisognerà andare a inserirlo. Appena fatto scorriamo qui su Vedi tutti i libri e avremo i nostri libri. Dopodiché ci basterà scaricare l'app che si chiama BeYang. E anche qui il gioco è fatto. Passiamo a BeSmart. BeSmart, più che un'app di un singolo libro, è un'app che contiene più libri. Perché noi dal sito andiamo a collegare gli account di altre case editrici e li abbiamo tutti qui in un unico posto, evitando di installare altre app. Come prima cosa andiamo sempre su Google e cerchiamo BeSmart. Clicchiamo Accedi a registrati e ovviamente voi vi dovrete registrare, io ho già l'account, però cliccate registrati, il vostro ruolo appunto. Compilate con nome, cognome, data di nascita, indirizzo email e password. Dopodiché accedete. Clicchiamo qui in alto su Attivo un libro. Come vedete queste qui sono tutte le case editrici che possiamo attivare. Sono veramente tantissime. Facciamo caso che sia da scuola. In base alla case editrice, dovete andare sul sito appunto della case editrice, ad esempio da scuola. Fate Accedi all'area personale. Anche qui andiamo a registrarci e poi ad accedere. Dopodiché clicchiamo Attiva libro e inseriamo il codice. E qui avremo tutti i nostri libri. Ma per avere tutto in una sola app, torniamo su BeSmart. Clicchiamo sull'icona del nostro profilo. Andate su Account collegati e connettete i vostri libri. Ad esempio qui da scuola fate Collega account, mettete il vostro indizzo email, quindi le vostre credenziali. E avrete anche i libri di da scuola. E quindi qui nell'app troveremo tutti i libri che all'inizio saranno da scaricare. Così li potremo avere offline, ma ci mette veramente pochissimo. E i nostri libri ci sono. Ora passiamo a Zanichelli. E comunque l'app di BeSmart si chiama MyBeSmart. Per Zanichelli ci basterà cercare Zanichelli su Google. Sempre il primo risultato, quindi zanichelli.it. Entra, registrati, scegliete il vostro ruolo e vi registrate. Dopodiché accedete. Clicchiamo sull'icona del nostro profilo, attiva opera. E qui andiamo a inserire il codice. In questo caso è sempre un bollino e il codice si trova qui a destra. Ed è formato da lettere e numeri ed è tutto maiuscolo. E come vedete avviamo il libro. Appunto poi dovete scaricare l'app Booktab. Questa appunto è l'app. E appena abbiamo fatto l'accesso avremo il libro. Anche questo prima deve scaricare. Per prendere appunti io invece utilizzo Samsung Note che vi ho anche fatto vedere nello scorso video. Ovviamente cambiano le istruzioni per ogni casa editrice. Quindi vi basterà guardare la copertina del vostro libro che vi dirà i passaggi da fare e i siti in cui andare. Se avete bisogno vi ricordo che potete scrivermi nei commenti. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque ragazzi volevo ringraziarvi perché siamo quasi a mille iscritti. Che è un traguardo gigantesco. Quindi volevo soltanto dirvi grazie.